Sì, stasera si svolge un evento importantissimo, forse l'evento più importante del nostro calendario invernale. Abbiamo creato un calendario quest'anno importante di eventi culturali, ma eventi che hanno permesso tanto divertimento. Questo di stasera rappresenta un importante evento che grazie al lavoro svolto dall'Associazione Aspi, in collaborazione con il Comune di Aiello e le altre associazioni, naturalmente come Comune abbiamo patrocinato questo evento convintamente perché siamo convinti che questo evento rappresenta un'importanza per il nostro territorio. Lo rappresenta su tutti i punti di vista. Uno, culturale. Due, perché ci permette di valorizzare il nostro borgo e di renderlo fruibile ai tanti cittadini che stasera sono qui a rendere omaggio alla nostra comunità. E quindi io stasera da sindaco e come amministratore di questo territorio sono veramente soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti in sidergia con le associazioni. Allora, io sono il dottor Gianlucio Camillo, presidente dell'Aspi, circolo insieme se vince che è organizzatore e ideatore della seconda edizione del Presepe Vivente. Ricordo che la prima è stata effettuata nel 2019 e poi per ovvi motivi non è stato possibile più continuare. Abbiamo ripreso oggi con tanta tanta lena e soprattutto ho il piacere veramente di ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato, hanno dato tutto di loro stessi perché questo evento arrivasse ad un alto valore. Lo scopo qual è? Lo scopo è quello di manifestare, far conoscere a tutti, anzi a tutto il mondo vorremmo dire, il nostro borgo che è un borgo veramente meraviglioso. Abbiamo dei palazzi che purtroppo alcune volte sono chiusi per lunghi periodi, noi siamo riusciti ad aprirli grazie anche al consenso dei proprietari e soprattutto abbiamo il palazzo Malaspina che di recente è stato restaurato e che è stato possibile renderlo transitabile al pubblico. Ringrazio dicevole varie associazioni perché ognuno di loro ha dato tanto, non posso fare i nomi perché me ne scapperebbe qualcuno, ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale che tanto tanto ci ha aiutato ed è disponibile per le nostre esigenze. Noi contiamo veramente di proporre questa manifestazione perché il nostro paese lo merita. Io voglio rubare una denominazione a un film di qualche anno fa, la grande bellezza, la grande bellezza è di questo paese, questo paese che ci ha vicoli, ha portali, ha costruzioni storiche veramente importanti e sicuramente da vedere. Il nostro scopo è di valorizzare, di diffondere e di far conoscere non solo alla nostra regione ma far conoscere al mondo considerando che ormai con i social si arriva ovunque e attirare tanta gente perché non si può perdere il piacere di percorrere le nostre vie. E posso anche dire un'altra cosa, noi abbiamo ancora tante cose belle da scoprire e l'occasione del presepe vivente sarà un continuo scoperchiare le cose che ci appartengono, le cose che sono nascoste, le cose che ormai sono trascurate. Noi le vogliamo riportare in auge e farvele vedere a tutti. Per cui oggi è la prima rappresentazione del presepe vivente ma voglio ricordare che il 5 gennaio del nuovo anno ci sarà la seconda rappresentazione e saremo ancora, ancora, ancora più caldi, più caldi e molto e sempre accoglienti. Grazie, vi aspetto numerosi. Salve, buonasera, sono il dottore Stefano Iannilucio con mio padre dottore Camillo Iannilucio facciamo parte dell'Aspi, mio padre dottore Camillo è presidente dell'Aspi e come tre anni fa abbiamo ripreso questa bellissima manifestazione che è il presepe vivente da Iello Calabro. Un'opportunità, un'occasione per conoscere il nostro borgo, valorizzarlo e farlo conoscere qui nei paesi limitrofi ma diciamo in tutta la regione, in tutta la Calabria. Io sono qui davanti proprio all'ingresso che inizia con questo manufatto, questo arco che è la grande maestranza del nostro artigiano Rosario Bernardo, riuscito ad allestire. questo arco è fatto all'interno di uno scheletro in legno e poi rivestito in polisterolo ma può ingannare, sembra pietra vera. È un ottimo biglietto di ingresso per un percorso che si presenta caratteristico, abbiamo aperto i portoni, le case, i palazzi nobiliari e facciamo conoscere con questa manifestazione il nostro borgo a tutti i visitatori. La prossima serata sarà il 5 gennaio dalle ore 16 alle ore 19. Venite numerosi, vi aspettiamo. Grazie. Grazie.